Selly Spectra lascia Beautiful, l'annuncio dell'attrice Kirtney Hope un nuovo addio a Beautiful, il personaggio di Selly Spectra è stato tagliato fuori dalle trame della Soppy. A farlo sapere l'attrice Kirtney Hope che ha annunciato l'addio alla serie dopo un solo anno di lavoro. Come era prevedibile, con il ritorno di Hope a Los Angeles gli autori hanno deciso di tornare a dedicarsi al vecchio triangolo amoroso che coinvolge la figlia di Brooke con Steffi in Liamo. Per Selly ci sarà, almeno per il momento, un happy ending. Nelle puntate americane di Beautiful la giovane si sta riconciliando con Thomas Forrester che L'aveva lasciata per riprovarci con Caroline e dare una famiglia al piccolo Douglas con il quale sta progettando una nuova vita a New York. Il post su Instagram di Kirtney Hope di Beautiful. Ho aspettato a dirvelo ma ora non posso aspettare più. Grazie per tutto il supporto che mi avete dato in questo anno di lavoro. Spero Che Selly possa tornare presto a Los Angeles ma fino ad allora, vi amo tutti, è stato un anno fantastico, è stato un onore per me far parte della squadra di Beautiful. A quanto pare Dio ha nuovi progetti, per me non vedo l'ora di scoprirmi, ha fatto sapere Kirtney Hope su Instagram, dove ha fatto subito incetta di like e commenti. Nonostante sia stata poco tempo nel cast della più longeva soppopera, la giovane si è subito fatta amare dai telespettatori e non ha fatto rimpiangere la vecchia Sally Spector.